Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Poveri e Bisognosi. Spero la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia? Provo molta pietà per i poveri. Sono persone bisognose, hanno bisogno di molta attenzione e premura da parte nostra perché hanno molti problemi e sono abbandonati. Vi leggo la poesia. Quanta pietà provo per i poveri e bisognosi e una premura per loro che sono abbandonati ai loro problemi. Bisognosi di ogni cosa e del minimo indispensabile, bisognosi di fede operosa e di un senso familiare di pace. Bisognosi del vero calore che li sappia ristorare, bisognosi di ogni azione lodevole colma di serenità incantevole. I poveri saranno sempre ricchi dell'attenzione dei cristiani come emblema dei concetti divini che simboleggiano la pace dei redenti. Grazie. Condividete a tutti.